Che cosa ci rende umani? Quello che abbiamo raggiunto, quello che ancora c'è da fare, osare. Chi mi ha aperto la via sapeva che questo insegnamento da solo vale una vita. Essere, non avere. Valicare muri, non erigerli di continuo tra noi e l'incognito. Io sono la volontà di chi sceglie la vita. La calma di chi conosce il mondo. La costante di chi ama devoto. Visualizzo la meta da sempre. Che dannazione, in un mondo di ciechi, la mia anima ha sete. Così come le mani e gli occhi. Non cerco premi. Non attento fama. Tanto mi basta per stare bene. Di una sola cosa ho certezza. Non esiste presente. Senza un passato che ha scolpito. E' un futuro da sognare. Le aziende devono essere eterni. Voglio assicurare un mezzo di eternità a questa azienda. Trasmettere la convinzione che c'è sempre una prospettiva. Che c'è sempre una visione diversa delle cose. Che bisogna guardare oltre. Bisogna guardarsi intorno. E' stato fatto negli ultimi due anni anche un lavoro per rendere tutti consapevoli di cosa siano questi valori. Li abbiamo definiti insieme. Quindi figure giovani con figure meno giovani. Abbiamo costruito la nostra vision. Che poi ci ha permesso di identificare bene quelli che sono appunto i nostri valori. La professionalità. La trasparenza. La coerenza. E la responsabilità. Il passaggio generazionale. E' il rispetto di chi ci ha preceduto. E' la fiducia di chi continuerà. E' la fiducia di chiudere. 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 Grazie.